E ciao ragazzi ben ritrovati all'interno di questo nuovo video di Istanbul Guys Dopo un po' di video alternati Boom Beach Frontline e Istanbul Guys Siamo qua belli bollenti all'interno del canale per provare nuovamente ad utilizzare i trick Userò tutti i trick che conosco per ciascuna mappa Quindi mi raccomando se vi siete persi i vecchi episodi dove vado ad utilizzare i trick dei pro player Lo trovate qua nelle schede cliccabili Cerchiamo di essere i più riassuntivi possibili all'interno di questo video Voi però dalla vostra parte iscrivetevi, attivate la campanella Perché sono in arrivo sul canale un sacco di video nuovi sia di Boom Beach Frontline che di Istanbul Guys Quindi siete sul canale giusto se siete interessati a questi due giochi Fate fare un po' di passaparola Quindi spargete un po' la voce, fate un po' di robette Che noi siamo belli belli carichi Quindi subito dentro con il mio profilozzo di Istanbul Guys Livello 18 Sono arrivato alla ventesima vittoria ieri in live Quindi tanta tanta roba All'interno del pass battaglia sto cercando di farmare qualche livellino Per racimolare qualche gemmoz eventualmente Per poi fare box opening e cose varie Adesso vediamo cosa riesco a fare Prima dell'inizio del video però qualche unboxetto Io lo andrei a fare Quindi giriamo subito una piccola Una piccola rotellina Non voglio perdere troppo tempo Però una rotellina secondo me Potrebbe aver senso Diciamo così Lanciarla con 10 gemmoz Che vi devo dire ragazzi Le metto in saccoccia ben volentieri Detto questo entriamo subito in partita Perché il video di oggi deve essere Vuole essere incentrato sostanzialmente su questi trick Quindi non vedo l'ora di andarli a provare assieme Fatemi sapere se voi li conoscevate già Trovate qua sotto l'opportunità di contattarmi E di scrivermi quali video vorreste vedere su Stoolumbleguis Vi ricordo se lag all'inizio ragazzi Non è propriamente normale Ma poi si dovrebbe ristabilizzare Quindi semplicemente Un lag piccolo iniziale Che dovrebbe poi Andare a consumarsi in poco tempo Come appunto è successo a me in questo caso Che mi prendo le palle in faccia Martelli volanti Insomma robe varie Ma comunque si dovrebbe essere stabilizzato un po' Il lag Adesso questa mappa qua È una mappa nel quale ha senso fare questo trick qua Ve lo consiglio ovviamente Se riuscite a farlo Poi saltellino di là Saltellino di qua E poi via di qua Adesso GG per noi Perché non abbiamo sbagliato praticamente niente Se non il fatto che Laga un pochino Ma comunque siamo dentro La grande undicesimi Va più che bene GG per noi Abbiamo utilizzato i trick giusti E ci siamo qualificati Vi ricordo Ho fatto anche delle altre guide Sui vari trick Che utilizzano i pro player Li trovate nelle schede cliccabili Qua in alto a destra Quindi eventualmente andategli a recuperare È un mio consiglio personale Se avete voglia Potete andarle a recuperare Senza Senza troppi problemi Allora For caccia Mi slacca Voglio adesso che mi tiri fuori Una mappa decente Ti prego Droppami una mappa decente È il tile fallen È il tile fallen Io lo posso stare Io lo posso stare Se non mi lagga troppo Io lo posso stare Allora Mappa molto randomica Per lo più randomica Quindi Quindi ci buttiamo un attimo Alla sgradellante E ci siamo presi La sgradellanza in testa Ecco Perfetto così Ottimo Ottima giocata del vapor Il saltino sulle robe verdi Attenzione Attenzione Orca Porca L'orca So orca Orca Ti prego Te prego Te prego Non mi tira Non mi tira gli schiaffi Non mi tira gli schiaffi Ok robo verde GG Qualcuno che si sacrifica Per la patria E va a vedere se c'è Un altro robo verde Porca Porca Mi è arrivato Mi è arrivato il grande Il grande salto nel vuoto Vieni con me E niente Il vapor rimane Purtroppo fuori Erro dietro la coda Ma va meglio così Perché il gioco lo vedevo Un po' Laghicchiare Magari dopo questa partita Si rifa un attimo Qua purtroppo i trick In tile fall Non si possono andare ad utilizzare Ma vi faccio vedere Adesso i trick Che andrò ad utilizzare Nella prossima mappa Che ci capita Che è Cannon climb Questa mappa qua è particolare Ve lo dico È una mappa È una mappa Che dove ci sono alcuni trick Carucci Che cerchiamo di andare ad emulare Qua innanzitutto Sto martellozzo Cerchiamo di evitarlo GG per noi Nel tile E subito un passaggio laterale Attenzione a non prenderci le palle in faccia Per favore Non voglio perdermi le palle in faccia Grazie E ok Ce la siamo cavata alla grande Siamo riusciti a passare senza troppi problemi Anzi Dovremmo essere addirittura primi E qua c'è questo famoso trick Di saltare sul robo viola Qua è nella parte finale Quello che vi consiglio Io State se riuscite Nella parte laterale In modo tale da non prendervi I palloni Che danno un po' fastidio E poi fate un easy call Che è proprio Strana il chill Tagliate in mezzo Col diagonale E arrivate senza Nessun tipo di grandi problemi Subito un 16 su 16 Tranquillissimo E il vapor si cuolla GG per noi GG per noi Via giuca Da un po' tutto Te prego Droppami Droppami una mappa Che sappiamo giocare in modo decente Grazie 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 Successivo Vediamo subito che ci esce Allora Vorrei Sinceramente Una mappa Non a squadre Non a squadre Grazie Non a squadre Grazie Ed eccola lì che ci capita la squadra Già lo so Oddio Humble stumble Va più che bene Humble stumble Ha il famoso Il famoso posto segreto Che non so se qualcuno di voi C'è già stato C'è l'opportunità di cadere In questo posto segreto Molto 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 Particolare Ma andremo a farlo poi eventualmente In un altro video Ma porca di quella porca Vabbè Ormai mi sa che già la qualifica È già bella candata Perché purtroppo Qualcuno mi ha body bloccato E non sono riuscito a passare Nonostante questo però GG per noi Ottimo salto Siamo ancora in piena carreggiata Riusciamo a qualificarci Senza troppi problemi Non lo so Oddio Il lag è veramente disumano 7 su 8 Non ci posso credere Di nuovo così Di nuovo non la qual così Qua non potevo fare niente C'è più di così E era veramente complicato fare Comunque I trick li stiamo utilizzando Devo dire che funzionano In realtà Si ottengono sempre I soliti punticini Si fanno sempre Le solite cose Ma Un po' di lag Purtroppo È generale Quando si gioca In queste situazioni qua E quindi Non ci possiamo fare Purtroppo Purtroppo un gran che Ma Devo dire ragazzi GG E vi regalo Alla fine della partita Tanto per Un piccolo Un piccolo girellino gratis Tanto per Addolcirvi un po' La situazione Te prego Trofami qualcosa di intelligente E mi droppa Il gettoncino viola Nel chill Il gettoncino viola Va più che bene Lo mettiamo in cassuccia 104 gettoncini viola E vi ricordo Faremo anche un unboxing Di gettoncini viola Quando avremo L'opportunità Quando arriviamo A 105 Magari 3 Rotelline viola Le possiamo anche unboxare Ragazzi il video termina qua Spero che vi siete divertiti Spero che vi sia piaciuto I trick Sono stati un po' Quello che potevano Ma purtroppo Il gioco Ha deciso Un po' Di slaggicchiare Per quello che riuscivamo A fare Abbiamo fatto Noi ci vediamo Domani al 14 Tutti i giorni Alle 14 In realtà Il video esce sul canale Quindi andatelo a recuperare Se ve li siete persi I vecchi video Di Stumbleguys Li trovate nelle scade Cliccabili Ne ho fatti Veramente tanti Quindi potete andare A recuperare Senza troppi problemi Vi ricordo Che avete l'opportunità Di abbonarvi Con i link Che vi lascio qua sotto In descrizione Ed eventualmente Anche la possibilità Di seguirmi Sugli altri due social Instagram e TikTok Per restare aggiornati Su quello che faccio Oltre al mondo di YouTube Quindi è un qualcosa Per creare un po' più La community Che secondo me Ha senso fare Le live torneranno Poi dal settembre Quindi non vi preoccupate Che a settembre Torneremo con le live Ciao belli A domani Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli